I partiti tradizionali sono in crisi e non riescono più a rispondere alle esigenze dei cittadini? La ricetta per andare oltre, non perdere voti, anzi cercare di coalizzare tutte le forze politiche non in grado di dare un nuovo impulso, sostiene di averla il sindaco di Bari, fondatore della lista civica che porta il suo nome, nonché presidente regionale del PD, Michele Emiliano. Lungi dal voler abbandonare il Partito Democratico, che pure non manca di criticare, Emiliano sta pensando ad un coordinamento delle liste civiche o forse di liste elettorali, almeno quella del centro-sinistra, per superare la crisi della politica. Si chiama lista Emiliano perché, come posso dire, utilizza quello che a Bari la lista Emiliano ha fatto nel 2004 e poi nel 2009, ma può tranquillamente essere considerata una federazione delle liste civiche che condividono con noi un certo progetto di società che è espresso, diciamo, dal modello di governo della città di Bari e che noi pensiamo di poter esportare, sia pure con gli dovuti adattamenti, a tutte le altre città della Puglia. Certo, il sindaco di Bari dovrà fare i conti anche con la lista del governatore Vendola. Vendola ha tre fondamentali elementi organizzativi, il partito, Sinistra e Libertà, le fabbriche di Nichi, che sono dei luoghi aperti, e poi la lista Puglia per Vendola. È chiaro che lui ha la forza economica di finanziare questo insieme di cose, noi non abbiamo una lira, questa è la differenza, però fondamentalmente credo che stiamo andando nella stessa direzione. Stiamo cercando di dare la possibilità agli italiani che vogliono partecipare e fare politica di farla senza sentirsi costretti a partecipare a un congresso, a farsi una tessera, a integrarsi in questa o quella corrente, e questo elemento, secondo il mio punto di vista, è un elemento che fa della Puglia, sia dal punto di vista del PD, sia dal punto di vista della sinistra radicale di Vendola, fa della Puglia un laboratorio politico di estremo interesse. Il primo arruolato esterno è Tommy Attanasio, ex coordinatore cittadino di Aene, e poi uomo di spicco del PDL barese. C'è stata una forte volontà di dialogare con Michele Emiliano, quindi partecipare e collaborare alla sua lista in modo da poter rendere ariosi i propri pensieri senza caratterizzarli da uno schema che credo sia anche abbastanza stantio e che i cittadini non lo gradiscono più.